C'è una trasmissione su una famiglia intera che vive nella foresta dell'Alaska. Ora in una puntata uno dei figli dopo aver commesso un'imprudenza riceve giustamente il rimprovero del padre. Mi ha fatto molto riflettere quello che il figlio pentito disse più tardi. Amo profondamente mio padre, non voglio deluderlo, quando lo deludo mi sento da schifo. Il giorno dopo si rimettono al lavoro insieme in armonia e amore con la complicità di sempre per raggiungere gli obiettivi comuni. Credo che questa sia una splendida immagine di un rapporto veramente a cui noi siamo chiamati con il padre nostro celeste. Credo che questo sia il rapporto che dovremmo avere con Dio. Vogliamo fare bene unicamente per non deludere il nostro padre celeste. Questo è il nostro desiderio, questo è il nostro proposito e questa è la nostra profonda motivazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.